Ciao creatura Io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cusai Esmr Vicini che fanno così Allora finalmente ho girato due tigre comunque a Bologna per trovare le caramelle ufo che vedo sempre, vedevo sempre mangiare su TikTok soprattutto da Linda Stabilini quando il suo profilo era ancora attivo Adesso io su TikTok non ci vado da un pezzo perché uno non ho tempo, due ho cambiato telefono e non l'ho reinstallato perché ci passavo troppo tempo e su TikTok ci bastico solo per fare i video reaction E ho preso queste caramelle come avrei letto dal titolo che volevo troppo assaggiare perché sono molto, sono sour ufos Sono a forma di ufo Quella peggio di novicella spaziale aliena Le ho viste assaggiare da molte persone anche forse da Follettina che saluto che so che mi segue Non lo dico per scherzare ma è così Ciao Follettina Ho visto che le ha mangiate anche lei, le ha assaggiate anche lei se non sbaglio E mi guardo, sì, mi piacciono i video assaggi, mi piacciono tanto E tanti che le assaggiano dicono buonissime Tanti che le assaggiano dicono che schifo cos'è sta roba Quindi è molto curiosa, semplicemente credo sia una cialdina di quelle, non so di come si facciano Onestamente dovrebbe tipo, sciogliersi in bocca all'interno dovrebbe avere una polverina aspra Tutto qua Qualcuno dice che c'è la polverina tipo Frizzi Pazzi ma no perché Ho scritto Sour quindi confondono il gusto aspro con le cose che scoppiettano e frizzano Che sono due cose diverse Però non lo so perché magari c'è Frizzi Pazzi dentro, non lo so E questa Linda che faceva video su TikTok Quindi andava pazza e ogni volta quando andava a Tigre se li comprava E li mangiava in questi video in modo molto vorace Però secondo me non hanno tanto sapore Però ho visto anche molti video ASMR Mook, Bang, Go Quelli dove mangiano Eating sounds Dove le mangiano Io non le trovavo da nessuna parte Cioè da nessuna parte Nei Tiger dove andavo io non c'erano Non le ho mai trovate Fino a che non ho girato ben due Tiger A Bologna E le ho trovate finalmente Cioè era ora E ehm Bologna Tiger Bla 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 Quello sarà un video a parte Storytime Che farò Forse è già uscito Forse deve anche uscire Non so Però è in programma Ecco La vicina ha smesso di fare casino Quindi direi di iniziare ad associarli Come vedi sono Se non sapevi cosa fossero prima Sono appunto queste gialdine Tipo sembrano le particole Le ostie Quelle della chiesa Mi ricordano così a vista Colorate però Pastellose Con un pastello di vari colori E appunto Vediamo Dietro cosa dice Dice Gusci di fecola Ok Con riempimento di polvere aspera La frutta 60% Ok Quindi sono gusci di fecola Con gusci di fecola Non so Sentiamo È uscito un profumo Aspetta Oh che buon profumo È un profumo Super chimico Di frutta Da Fragola Tipo lampone Super chimico Ma buono Allora Ci sono Oh tutti rosa Rosa bianchi Questo è giallo Ah tutto giallo Questo è più bello Oh Questo è azzurro E verde Bello Questo Come vedi ha questa forma Un po' da ufo Anche un bel suono Eh non ho tagliato Le ucce Però Anzi si può fare Anche il topping Cioè sono proprio Sembra di queste Granelle Non sembra solo pulvi Effettivamente Da suono Sembra Suono da frizzi pazzi Quindi potrebbe essere Che c'è Ma avrebbero scritto Invece di aspro Avrebbero scritto Tipo frizzante Scoppiettante 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 Il profumo Sembra quello Quando vai alla fiera E ci sono le bancherelle Con Le caramelle Sembra proprio Un misto Dei santi dolcetti Un problema La bancherella Vabbè basta Voglio assaggiarlo Allora Il gusto Mi ricorda qualcosa Le particole Dentro La polverina Bianca Non è Quella Che pensi Super Sour Che buone Sono molto particolari Mangio un'altra Questa volta Non voglio Morderla Ma voglio provare A mangiarla Tutta intera Sono molto particolari Che buone Sembra oddio sono super aspre mamma mia questo sapeva tantissimo di acido citrico non credo che il colore cambia il sapore però potrebbe essere proviamo una rosa comunque allora è molto un'esperienza mangiarle al di là che non è la caramella più buona del mondo se ne sono sicuramente di meglio però è un'esperienza interessante appunto mangiarla perché questa parte qua non ha molto gusto assomiglia a me piacevano molto le uova troppo piccole le uova quelle di gialla che dentro avevano non la cioccolata avevano una piccola piccola pallina di zucchero e quindi erano proprio solo cialda e zucchero sopra erano veramente molto buone ricordano un po' quel sapore proprio lievemente perché qui c'è solo la cialdina un po' anche le particole le ostie quelle della comunione di cristiani insomma della religione cristiana e sì io le ho mangiate perché ho fatto tutti i sacramenti fino alla cresima quando ero piccola bambina insomma alle medie e quindi ho fatto la comunione e so io ho mangiato diciamo l'ostia la particola si può chiamare in tutti e due modi e più o meno ha questo sapore inizialmente sembra che abbia tipo una consistenza oddio sembra carta tipo invece poi si scioglie in bocca e rilascia la polverina che c'è all'interno che è super aspra però ha un gusto tipo fruttato un po' da perigoschi un po' non lo so questa hanno usandola si sa di fragole ma secondo me mi faccio fregare dal colore perché casualmente quella gialla per me sapevo da di acido citrico che è il limone no casualmente non mi faccio neanche un po' influenzare dei colori no no non sono neanche un po' suggestionabile mi uso sono tutte uguali però sono buone uno sacco particolari veramente un'esperienza molto particolare non le ricomprerò perché mi erano piaciute molto in realtà quelle di Halloween che ovviamente non ci sono più che erano a forma di teschio quelle erano buonissime super chimiche ma buonissime solo solo chi è abbonato ha visto quell'unboxing e quell'assaggio mi dispiace creatura quindi non ne hai memoria di questa cosa perché l'ho portata sul canale ma solo per le persone abbonate leggendari queste però sono veramente particolari e sì io sono più sulle si buone particolari che quelli che dicono che fanno schifo però non sono la classica caramella che ne mangeresti una dietro l'altra e poi le ricompri tipo quelle di Halloween che non ci saranno mai più più o meno il gusto è quello ma dell'altro mi piaceva la consistenza queste sì le finirò pian piano le mangerò però non credo che le ricomprerò perché sono tanto ospre beh fammi sapere se tu le mangiate se le conoscevi se ti piace il suono che fanno se le mangiassi se ti piacciono se non ti piacciono se le assaggeresti fammelo sapere nei commenti qui sotto al video io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura